Con Pro Sestio abbiamo un'orazione di Cicerone in favore appunto di Sestio che era stato un tribuno della plebe, aveva aiutato Cicerone a rientrare in patria e contro Clodio aveva organizzato anche delle scorerie armate. Cicerone insistendo sulla civiltà che ha il diritto, mentre la forza e le barbarie, riesce a difendere l'imputato dall'accusa di De V, di violenza, sostenendo una tesi abbastanza contraddittoria. Come vedete la civiltà è ius e il diritto non è forza, però invece il principio di Cicerone era questo, per salvaguardare il diritto in qualche modo era necessario in quel caso usare la forza. Insomma, il fine giustifica i mezzi. Quis enim nostrum iudice signorat, ita naturam renum tulisse ut, quotan tempore omines, non dun neque naturale, neque civile iure descritto, fusi per agros, mettiamoli tutta sulla stessa pagina, ecco così, Allora, c'è un punto interrogativo, evidentemente c'è un'interrogativa, infatti ce l'abbiamo al primo posto, Quis enim nostrum iudices ignorat, chi infatti di noi, tra noi o giudici, ignora, mi pare che sia molto semplice. Che cosa ignora? Abbiamo un'infinitiva, naturam rerum tulisse, naturam rerum può voler dire benissimo semplicemente natura, no? Ricordatevi, l'erum natura di Lucrezio, non è che dobbiamo tradurlo alla natura delle cose, possiamo tradurre ignora che la natura, ferum tulisse, abbia portato così che. Quindi, nessuno ignora che la natura abbia fatto in modo che. Ita ut. Quodam tempore omines. Non du neque, non du neque civile iure descritto, vedete che qui c'è un ablativo assoluto descritto, participio passato con iure in ablativo. E questi sono dei genitivi retti da iure. Quindi, ut quodam tempore omines, quodam tempore omines, fusi per agros, dispersi vagarentur, e tantum averet. Vedete che c'è l'et, che unisce vagarentur con averet, e tutti e due sono retti da ut. Quindi, che quodam tempore, un tempo, qui dan quodam quodam, vorrebbe dire un certuntale, ma a volte in italiano si può tradurre anche con l'articolo indeterminativo, no? che un tempo gli uomini, fusi per agros, ac dispersi vagarentur, vagavano, sparpagliati per i campi e dispersi. Et abere tantum, e avevano tantum quantum, tanto quanto, abbiamo una comparativa, potuissent, avessero potuto, o strappare, o trattenere, no? Questi sono predicati verbali, unici predicati verbali, potuissent è un servile, quindi fa, è vero ci sono due predicati verbali, eripere e retinere, però potuissent, si unisce con eripere e retinere, e fa due, non ce ne sono tre, ce ne sono due. quanto avevano potuto strappare, o strappare, o trattenere, o strappare o trattenere, manu, con la forza, o con la scoreria, ac viribus, o con la violenza, per cedem, attraverso l'omicidio, ac vultera, o le offese, per cedem, o per vulnera, sono complementi in modo per luogo figurati, attraverso l'omicidio, o le offese. Abbiamo dimenticato qualcosa, non d'un neque naturale, neque civile, io l'ho descritto. Vedete che c'è neque e neque, c'è una negazione, io devo aggiungere una negazione, al verbo, perché in latino non c'è, altrimenti due negazioni farebbero una, 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 affermazione. Non essendo, sarebbe, non descritto il diritto, non scritto il diritto civile, non scritto il diritto, non essendo stato, ancora scritto, non d'un vuol dire non ancora, ma no scusatemi, c'era, non d'un, non d'un matura essi, non è ancora, no, non d'un, non d'un descritto, c'era, c'era negazione. Non essendo stato scritto, ancora, non d'un vuol dire non ancora, il diritto, né naturale, né civile. Quindi, ci siamo, non solo, devo leggere di nuovo, che infatti, noio giudici, ignora, che la natura abbia condotto così che, un tempo, gli uomini, non essendo stato ancora definito, nel diritto, naturale, né civile, dispersi per i campi, e vaganti, vagavano dispersi e sparpagliati per i campi, e avevano tanto quanto la violenza e le forze attraverso l'omicidio e le offese, o avevano potuto strappare, o avevano potuto trattenere. Ricordatevi sempre questi congiuntivi che io traduco con indicativo, li traduco con indicativo perché ci sono attrazioni modali, quindi ricordate che i congiuntivi nelle subordinate, quando si rende necessario, le possiamo tradurre all'indicativo. Qui igitura primi virtute et consiglio prestanti estiterunt, i perspecto genere umane d'uciditatis acco in geni, i supatos unum in locum congregarut, che sta per congregaverunt, eteos ex feritate ille ad giustiziam atque ad mansuetudine transduxerunt. Dunque, qui abbiamo una relativa. Uno potrebbe chiedersi, ma perché non potrebbe essere nesso relativo? Quante volte all'inizio lo consideriamo nesso relativo? Ma c'è un dimostrativo che si attacca al relativo, coloro i quali. E poi abbiamo in seguito quella che chiamiamo proposizione principale con la coordinata, che non sono introdotte da nessuna particella subordinante. Quindi dobbiamo ritenere questa una proposizione relativa. I qui, coloro i quali pertanto per primi, si distinsero virtute et consiglio prestanti, per virtù o per valore e per saggezza superiore, prestanti un ablativo, non che sta con virtute e consiglio, coloro i quali. Poi c'è un ablativo assoluto, per spetto genere, per spiccio, participio passato, visto la stirpe, per spesto, considerata la stirpe, della docilità e dell'ingegno umano. Cosa fanno coloro, coloro i quali, che hanno visto appunto con Grega Veront, riunirono gli uomini dispersi, unum in locum in un solo luogo, e transduxerunt, li condussero, condussero quelli, ex feritate illa, da quella vita animalesca alla giustizia, alla mansuetudine. Tum res, ad comunem utilitatem, quas publicas appellamus, tum conventicula hominum, que poste agilitates nominate sunt, tum domicilia coniunta, quas urbis dicimus, inventio divino iunat umano, moenibus sepseunt. Allora, bisogna togliere innanzitutto le proposizioni relative, quas publicas appellamus, que poste agilitates nominate sunt, quas urbis dicimus, e poi c'è ancora un ablativo assoluto, vedete, invento, mi raccomando, quando c'è un participio passato, un participio presente in ablativo, e vicino ci sono dei nomi in ablativo, quello è un ablativo assoluto, e può essere tradotto separatamente, no? Invento è divino iunumano, trovato o inventata o definito un diritto sia divino sia umano, quindi questo è a sé stante, e poi notate questi tum, 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 anche questa è una regola, regoluce che ho messo io nella mia, nel lavoretto che ho fatto di latino, in quel compendio, in quella manuale, non compendio, in quel manuale, tum, tum, tum vuol dire sia, 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 quindi, vedete che oltretutto sono accusativi, utili tatem, qui, non si vedono, che potrebbero anche essere denominativi, però, visto che questo è un accusativo, per analogia, visto che tutti e due sono preceduti dal tum, c'è da pensare che anche questi siano degli accusativi, quindi dei complementi oggetti, circondarono con mura, sempre quelli, no, di cui abbiamo parlato prima, sia, le cose, per l'utilità comune, sia, i luoghi comuni degli uomini, sia, le case unite, quindi parliamo delle città, dei paesi, e poi bisogna inserire vicino ad ogni sostantivo, ad ogni complemento oggetto, la proposizione relativa, sia le cose, tra parentesi, destinate all'utilità comune, che chiamiamo pubbliche, sia, i luoghi di riunione degli uomini, che, dopo, furono chiamate città, sia le abitazioni riunite, che chiamiamo urbes, attenzione che questo ha un valore di S, attenzione, la Is con valore di S, dopo aver individuato, un diritto, sia divino, sia umano, quindi, è una, e un inno di lode, al diritto, che deve essere, messo al primo posto, mentre la violenza, deve essere, assolutamente, allontanata, da questi, da questi, che li chiama, conventicula hominum, da questa vita associata, degli uomini.